Il San Salvo impatta al fonte dell'Olmo di Roseto, l'1-1 che viene fuori dopo i 90 minuti conferma che gli ospiti sono formazione temibile e che per continuità dei risultati meritano la terza piazza in graduatoria alle spalle del duo sul Mona Giulianova che già in estate era evidente se sarebbero contesi la vittoria finale. Dunque San Salvo non più sorpresa ma certezza del campionato di eccellenza. Con la Rosetana in grado sull'altro fronte di riequilibrare una gara a partita col piede sbagliato e dire che l'11 di Brunozzi va vicino per primo al vantaggio, Mattucci serve Mariani, conclusione a botta sicura, respinta distinto da Antonucci. Torres tenta la risposta a stretto giro, minuto 8, 7 minuti prima del vantaggio ospite e stango a risolvere la mischia che si crea davanti a Merletti, diagonale preciso e pallone in fondo al sacco. La Rosetana come ovvio non ci sta, il piazzato di Mariani non inquarra la porta mentre l'intervento di Ciurlì al 28esimo scatena le proteste di casa per un cartellino rosso che non arriverà perché Casalvieri di Avezzano opta per un più salomonico giallo. Ma la Rosetana non si scompone e prima dell'intervallo acciuffa il gol della parità. Spagnuolo commette infatti fallo di mani sulla conclusione di Mariani per il fischietto marsicano e calcio di rigore. Dal dischietto campanile come di consueto è implaccabile, 1 a 1 e tutti a riposo. Intervallo che durerebbe 15 minuti se non fosse che le due squadre si concedono anche la ripresa di riposo. Marce bassissime, la difesa san salvese trema sulla testata di Repetto coi tempi giusti, minuto 56, mentre al sessantesimo Mariani viene fermato in azione di contropiede. Per Casalvieri è tutto regolare. Sul prosieguo l'ultima emozione la regalano Stango e Merletti, col primo fermato dall'intervento tempestivo del portiere Rosetano. Termina 1 a 1. Per il san salvo un X che vuol dire continuità di rendimento, mentre per la Rosetana un passettino per poter continuare a cullare il sogno playoff. Il primo tempo è stato un bellissimo primo tempo sia da parte nostra che da parte del san salvo. Poi il secondo tempo è un po' il campo pesante, un po' perché i ragazzi hanno nato tanto il primo tempo, siamo scesi un pochettino tutte e due. Poi la Rosetana è rimasta anche in dieci per un fertugno di un ragazzo, diciamo che alla fine è giusto un pari, mi avvicino a una vuota salvezza, ancora è lunga, però piano piano ci arriviamo.